C'è bisogno di pregare sempre senza stancarsi mai, anche nei momenti di stanchezza e scoraggiamento, perché Dio esaudisce le preghiere dei suoi figli anche se in tempi e in modi che noi non possiamo capire. Così Papa Francesco ha l'udienza generale di questa mattina in Piazza San Pietro, continuando la serie di catechesi giubilari sulla misericordia. Il Papa ha ricordato la parabola del giudice disonesto che esaudì la richiesta di giustizia di una vedova solo per porre fine alle sue continue richieste, non per vera misericordia. Se la vedova è riuscita a piegare i giudici iniquo e senza scrupoli, ha ricordato il pontefice, tanto più Dio, padre buono e giusto, accoglierà le richieste dei suoi figli, anche se ciò non significa che lo faccia in tempi e in modi che noi vorremmo. La preghiera non è una bacchetta magica, ha proseguito Papa Francesco, ma ci aiuta a conservare la fede in Dio e ad affidarci a Lui anche quando non ne comprendiamo la volontà. Non dobbiamo desistere dalla preghiera anche non è corrisposta. È la preghiera che conserva la fede, senza di essa la fede vacilla. Chiediamo al Signore una fede che si fa preghiera incessante, perseverante, come quella della vedova della parabola. Una fede che si nutre del desiderio della sua venuta. E nella preghiera sperimentiamo la compassione di Dio, che come un padre viene incontro ai Suoi figli, pieno di amore misericordioso.